La manifestazione Lazio è Valore d'Impresa e ci ha dato l'opportunità in particolare di affrontare la tematica dell'internazionalizzazione. Una tematica particolarmente importante per il furro delle nostre aziende perché come sappiamo il Made in Italy è sempre più apprezzato all'estero ma soprattutto il Made in Italy è frutto del lavoro dei nostri artigiani quindi delle micro e piccole aziende che noi di Confartigianato rappresentiamo. Innovazione e internazionalizzazione sono senz'altro due almi molto potenti a disposizione delle nostre imprese anche nei settori di provincia e periferici perché è proprio nei nostri borghi, nella loro bellezza, nella caratteristica unica dei loro artigiani che possiamo veramente dare risalto alla produzione italiana. Le nostre aziende, in questo sono veramente delle aziende di prima categoria possono dare un potenziale enorme e noi di Confartigianato crediamo che valorizzandole e valorizzando i borghi e i territori periferici della nostra regione, della nostra Italia potremo veramente dare un valore aggiunto e far crescere le nostre aziende. Grazie a tutti!